ciao a tutti amici benvenuti al mio canale io sono moira e oggi andiamo avanti con anno 2070 allora missioni dobbiamo iniziare una nuova missione la missione numero 2 quindi mi sembra di sì giusto sì perché cosa abbiamo fatto sì abbiamo decifrato il registro dati ok e dobbiamo ora analizzare il virus informatico d'accordo allora il registro dati era stato infettato da un virus informatico ok ok primi sistemi si sono bloccati improvvisamente per un sovraccarico richiede la piena capacità del sistema che hai alcune anomalie nei sistemi della città ho ormai preso sapremo chi ha creato il virus informatico e per quale ragione ok quindi io direi di iniziare la missione numero 2 ok allora e in anzi dice che il tentativo di indicare il turismo informatico sovraccaricherà le reti della città e infatti ci sa allora se per risolvere il problema si rifiuta di interrompere il programma di analisi e vabbè allora se non vuoi proprio interrompere fai danni o i pompieri oddio prossimamente disabiliti sistemi nevralgici di core metto così a rischio l'intera popolazione della città come ha disabilitato tutto ok intanto se notate che nei filmati non c'è più il lag che c'era prima magari soltanto un piccolo piccolo lag ogni tanto ma è perché appunto con la scheda grafica nuova è molto più fluido comunque e tiene che se ne sono stati compromessi dal virus informatico non riesce a isolarlo dal sistema o mio dio quindi praticamente cercando una soluzione per il virus del virus ci ha infettato bene conseguenze impreviste infatti ok allora cosa dobbiamo fare cosa sono vuole strappare a fare controllo di core e chiede il tuo aiuto ok ha preso il contatto e ti chiede di cercarlo che dobbiamo cercare la dottoressa perché lui ha perso il contatto con lei ok andiamo qua è qua fate la parola improvviso dichiara che dottoressa è un nemico cosa che sta dicendo diceva la chiamata di soccorso d'accordo e ti chiede di trovare la fonte del segnale ok ok come faccio è qua eccola è riuscita a barricarsi con alcuni scienziati in un'area di core difficile da raggiungere ok ok devo venire a salvarti sono loro guardate i poverini ok e come faccio ha bisogno di petrolio per il generatore di percienza per mettere in piedi la sua base operativa e infatti stanno andando soltanto con il fuoco non hanno niente ok ci saranno cinque tonnellate di petrolio arrivo ricordano fonte di petrolio sepolta sotto pardus e suggerisce di riaprirla ok andiamo qua allora consegna quanto segue un detonatore subacque abbia infettato fado ok si ho capito mi serve la mia barca o meglio il mio sottomarino dove il mio sottomarino sei tu no tu sei la barchetta che consegna le merci il mio sottomarino ma perché ogni volta devo perdere i miei mezzi qua forse sotto acqua qua forse vedo una macchia gialla o finalmente eccolo ok allora il petrolio vai qua allora fate vedere dove è il petrolio io ho detto che c'è una fonte di petrolio che sia questa si voglio accettare quanto segue ah si ok questa perfetto spero che le cariche esplosibili liberino la fonte di petrolio sepolta ok consegna quanto segue vai al fronte di petrolio per far esplodere le rocce indicate ok ok andiamo qua ma non è che faccio esplodere questo e faccio esplodere anche il mio laboratorio no perché allora ok vai esorta a costruire una piattaforma petrolifera ok tu spostati una piattaforma petrolifera a meno che non fosse no non c'entra niente ok allora pozza petrolifera petrolifera torre del po no 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 qui forse armi legna direi no forse qua no carbonio carosene dov'è il petrolio oh eccolo piattaforma petrolifera oh mio dio che cos'è questa cosa e si ok ci abbiamo fatta ora dovremmo produrre un po' vediamo ci sono tutti questi barili ma me ne servono cinque no si qui vediamo come piattaforma 0 su 1 sta dicendo cos'è questa cosa ah si devo collegarlo ok devo collegarlo con la strada quindi vai ma ok ok non abbiamo molto tempo d'accordo ma ce li ho i cinque di petrolio si ce li ho ce li ho ce li ho dov'è la mia barchetta c'è il mio sottomarino vai qua e dammi il petrolio perfetto adesso sottomarino vai qua perfetto ok mi fa vedere anche la strada ok aspettiamo che arrivi eccolo vai qua forza su forse 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 che cos'è questa cosa ah la barricata si consolievo attivo il generatore di emergenza nota che hai stretto un'alleanza con i ma no ma dai ho un piano per conquistare core ma gli serve del carbonio per realizzarlo ma scusami ma non potevi dirmelo prima mi fai fare 20 viaggi allora ha compreso delta però una raffineria di petrolio e una fabbrica di carbonio ok allora intanto gli dico di dove di tornare qua perchè dopo ci sarà utile allora ci serve raffineria di petrolio raffineria allora questo è piattaforma petrolifera no robot no dove la trovo io la raffineria di petrolio allora carbonio serviva anche il carbonio no si fabbrica di carbonio penso sia questa allora ah ci serve una migliaia di carbone prima porca locca dove la metto eh qua qua ci no perchè mi indica allora qua ce n'è una ah ma forse è già un si ce l'abbiamo già ce l'abbiamo già ok quindi non serve e allora fammi vedere la fabbrica di carbonio ce l'abbiamo deposito pieno deposito pieno deposito depo fonderia ok la fonderia di ferro ce l'abbiamo ah ma non serve la raffineria comunque no mettiamo la fabbrica di carbonio la mettiamo perchè tanto abbiamo già la miniera quindi mettiamo qua perfetto ok e poi ci serve la raffineria petrolifera eccola qua e la mettiamo si qua così no non mi piace la mettiamo qua se no vediamo ma si dai la mettiamo qua ok a mettere in attività lo stabilimento per il carbonio nella tua isola ok perfetto allora consiglio quanto segui 5 tonnellate di carbonio ti consiglio di fare scorta di armi di armi oddio davvero miniera allora ci serve una miniera ferro ne abbiamo una su due allora ferro armi perfetto ferro dove la posso mettere là in fondo no qua la metto la mettiamo qua perfetto poi ci serve fonderia di ferro di ferro si ok che è questa qui cosa abbiamo abbiamo un deposito un vivaio per gli alberi vabbè dai e mettiamo la fonderia qua di fianco però qua non mi lascia allora aspetta facciamo una strada ok così ok così e questa la mettiamo qua l'energia ok stiamo finendo anche l'energia adesso la metto non ti preoccupare e poi fabbrica di munizioni eccola qua e la mettiamo qua di fianco perfetto la produzione la produzione di armi è iniziata sì però prima devo mettere ehm vediamo parco eolico eccolo qua esatto allora è stato un mondo per recuperare la produzione di pesce e fornire gli assistenti ok adesso arrivo un attimo una cosa alla volta allora mettiamo uno qua ne mettiamo quattro perfetto adesso dovremmo avere energia a sufficienza ok ok perfetto adesso vediamo un po' preleva rete di evo dal magazzino e carica sulla tua nave oddio intanto qua però c'erano questi quadri da distruggere come si fa? ehm ah forse è così arrivo dal mio magazzino dov'è il mio magazzino? ok cos'è che devo prendere? preleva rete di evo dal magazzino e carica sulla tua nave la rete caffeina no scivo soggetti normativa rete ok usa rete nella bio indicata e porta un carico nella bio indicata ti chiedi di prendere il pesce fresco come gruppo di controllo per sviluppo per sviluppare l'antibiotico devo andare qua? porta alla bio indicata ok va bene allora qua devo usare la rete qua aspettiamo un attimo fatto pesce fresco porto un carico di pesce fresco ok ora dobbiamo tornare indietro intanto aggiungiamo ancora magazzini perchè sennò qua mi fermano la produzione di qualsiasi cosa ok ora dobbiamo tornare indietro ok ok non abbiamo altri no ok qua sono tutti malati bene mi fa piacere allora sta arrivando ok allora mi serve il petrolio quindi quindi vediamo un po' no aspettate vai qua vai qua così ok dai il petrolio e il pesce fresco sviluppa un antibiotico al laboratorio allora registrati attrezzi carbone niente antibiotico ok ok e voi producete state producendo stanno funzionando e capisce nuovamente comestibili ok produciamo carbonio ecco oh finalmente carbonio quanti ne servono? 5 ok dammeli ok finalmente ora possiamo andare qua forza forza ora possiamo andare qua muoversi muoviti sono ancora qua questi poveri forza forza dov'è? forza eccola ok ok ti chiedi di espandere al centro di ricerca insegnare il fuori ricercatore per esempio un antivirus ok è preoccupato di trovarti ancora contro di lui gli esseri umani minacciano i miei sistemi non lo tol... oddio vabbè non importa allora espandi costruisci quanto segue piantagione di barbabietola piantagione di caffè e fabbrica di bevande ok allora torniamo qua un attimo datemi qua le piantagioni allora magari per fare le piantagioni io le farei tipo qua quindi però per farlo devo piazzarci un magazzino allora ne mettiamo uno qua e poi ne mettiamo... no vabbè intanto ne lasciamo uno solo così e ci colleghiamo alla strada ok 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 perfetto allora ci serve barbabietole bevande funzionali ce le abbiamo penso siano queste bevande funzionali energetiche allora ah ecco ok perfetto tutto qua allora ci serve una di queste vediamo possiamo metterla una qua una qua così si no materiali i materiali sono insufficienti davvero comunque qua mi servirebbero poi queste ok me le ha messi in automatico d'accordo grazie ehm piantagini di caffè quanti materiali mi servono esattamente eh dunque qua no qua non c'è scritto vediamo qua me ne servono no mi serve tre di carbonio davvero non ne abbiamo ma state producendo voi raffineria petrolifera eh noi ne abbiamo due dai che me ne serve uno ok allora adesso state producendo vediamo vediamo se adesso posso si ok perfetto allora mettiamoci la piantagione di caffè e mettiamo le varie piantagioni e adesso ci serve la fabbrica di bevande giustamente no mi serve 8 di carbonio non ci credo oi oi allora la fabbrica di carbonio eccola qua dai ne sta già producendo uno ok aspettiamo allora ok allora abbiamo raggiunto il numero di tonnellate di carbonio che ci servono quindi andiamo subito a costruire quello delle bevande che non mi ricordo più dov'è eccolo qua bevande funzionali ok adesso possiamo costruirlo finalmente lo mettiamo qua però c'è poca energia comunque ormai è totalmente fuori controllo ritieni sia venuto il momento di costruire navi armate ok allora ci servono le navi armate però a me serve elettricità quindi se non mi dispiace io questo ce lo metterei qua ok allora navi armate vediamo raggiunge almeno cosa ricercatori di 50 ah ok devo aggiungere altri davvero altri 50 ricercatori vediamo datemi no questi sono gli assistenti ricercatori ricercatori 0 su 50 va bene vediamo se forse devo no vabbè ci penseremo dopo intanto qua costruisci quanto segue cantiere navale ok allora un cantiere navale dove lo trovo difesa base aeroporto centrale sottomarine no no allora andiamo qua cantina navale ok perfetto lo mettiamo si dai lo mettiamo qua perfetto comando una flotta che comprende alle seconda un viver 1 su 0 oh possiamo costruire navi noi merci viper eccolo qua però mi servono 20 di ferro e 7 che cos'è quella cosa sotto là non non saprei allora mia signorità comunque mi serve il ferro quanto ne abbiamo noi di ferro ne abbiamo 3 però dovrei averne esatto quindi la mia barchetta ne ho in abbondanza quindi ok perfetto adesso di ferro ne abbiamo ok sta costruendo un minuto e 20 manca ok d'accordo aspettiamo intanto mi indica sì sì ma non ti preoccupare sta facendo credo i ricercatori 1 su 50 però questi sono gli assistenti dove li trovo i ricercatori forse qua no non saprei dove trovare i ricercatori comunque il viper sta costruendo speriamo no ne ho costruite due ok perfetto no secondo me c'è quel numeretto rosso il 7 che significa qualcosa però sinceramente non saprei cosa comunque io quasi quasi direi di fermarci qua vedremo nella prossima parte come costruire un viper e soprattutto dove trovare i ricercatori quindi per questo episodio è tutto lasciate un mi piace un commento se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti